Mi rendo conto che adesso stiamo entrando un po' forse troppo nel dettaglio Prima ti preoccupate a spiegare questo e quell'altro Poi adesso chi è arrivato alla fine è chi vuole sentire la ciccia Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo Ciao, io sono Geloca Gazzoli, se ci state ascoltando su Spotify o su YouTube Bravi, continuate a farlo, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto Perché ho scoperto essere una cosa importantissima, soprattutto per non perdervi Nessun appuntamento, ma soprattutto nessun amico che passa a trovarci Sono molto contento anche della puntata di oggi, soprattutto perché ce l'abbiamo fatta Perché dovete sapere che ovviamente il momento in cui io parlo con gli ospiti, con gli amici Quando cerchiamo di concordare non è mai facile Ma poi alla fine ce la si fa, che è la cosa più bella Soprattutto perché da entrambe le parti c'è la voglia di beccarsi e di chiacchierare un po' E oggi mi raccomando, non so dirvi se alzate il volume, ascoltatelo nella vostra intimità Sarà molto interessante perché dal Basement è passato Dario Moccia Ciao Ciao Dario Allora innanzitutto sono colpito dalla tua introduzione Attenzione Non saprei farla così Molto radiofonica, molto televisiva, io non sono abituato a queste performance Forse lì è un po' più ritmo magari di quell'altro mestiere Sì è un po' più caldo, un po' diverso E viene così, diciamo pronti via Però in realtà io sarei venuto anche prima Però ti sei messo, hai voluto cercare l'ospite più disorganizzato penso della storia Allora in realtà devo dirti una cosa Su questo io ho notato, poi mi dirai tu se sbaglio o no Che quando ho diversi amici che fanno il tuo mestiere Che fanno il mio Insomma soprattutto quelli un po' più legati al mondo del web Sì È molto difficile interagire in alcuni casi Guarda uno su tutti è Yaki A cui voglio tantissimo bene Ah Yaki Dale Però anche lui è davvero difficile Non lo sai perché? Perché secondo me noi nati col web Sì E nati da soli Quando facevamo i video non ci aiutava nessuno Ci siamo abituati Che è una bruttissima abitudine secondo me A fare tutto per conto nostro E quindi vogliamo fare tutto per conto nostro Compresa la nostra agenda Ma ormai è difficile È difficile No quasi impossibile Tra l'altro devo dire che è esattamente la teoria che mi sono dato anche io Anche io ho pensato a questa cosa Ti faccio un altro esempio Ad esempio ho notato invece Marcello Ascani Che conosco da diversi anni Lui l'ho visto proprio evolversi nel tempo Perché all'inizio era così Poi dopo anche lui secondo me Uscendo un po' da quello che è il tuo mondo Perché tu come hai detto prima Parti da solo Ti fai tutto da solo Vivi in un mondo che è solo quello che è il tuo Quando però inizi fuori a relazionarti con altre realtà professionali Tanto come stai facendo anche tu adesso Quindi con altri editori Con altri mondi Lì per forza di cose A un certo punto devi trovare un minimo di disciplina Tutto un team Sì vabbè lui adesso ha fatto proprio Si è creato proprio la sua realtà Io non ce la farei a fare quella roba lì Cioè non vorrei mai fare quella roba lì Io ho bisogno solamente di alcune persone fidatissime Proprio due o tre Non ce la fa per team Ti dimette Comunque Però è un team anche quello È vero Un micro team Sì quello poi magari può mandare in confusione Però anche lì poi c'è sempre un po' il lato artistico Con il lato diciamo invece forse più imprenditoriale Cioè bisogna sempre trovare un equilibrio Però tu voglio dire Ed era la cosa ed è il motivo per cui ci tenevo un sacco Che passassi di qui a fare questa chiacchierata È perché comunque di cose ne hai fatte un sacco Ne fai un sacco Hai un pubblico Delle persone che ti amano Che ti vogliono bene Che è una delle cose più belle Che si possano creare oggi Che non tutti riescono Nonostante abbiamo dei mezzi oggi Che ci permettono di essere sinceri con il nostro pubblico Non tutti lo sono E tu hai mantenuto nelle tante cose che hai fatto Comunque una tua coerenza Una tua autenticità E alle persone questa roba arriva Sì ti ringrazio Il pubblico è sicuramente la cosa più bella che ho fatto Cioè che ho creato Il mio pubblico Perché è un pubblico divertente Un pubblico stimolante Un pubblico intelligente Che nonostante questa coltre poi di meme Di ironia eccetera È un pubblico anche esigente Che non si fa mettere i piedi in testa Da nessuno Quindi È bello Sono molto orgoglioso di loro È tanta roba Tra l'altro è abbastanza esoggezione Per il tuo Rival Basement Perché Ci sono alcuni punti di connessione Tra me e te E anche la passione Per alcune tematiche Cosiddette nerd Che secondo me ormai Sono diventate pop Sì totalmente E che sono all'interno del basement A cui io tengo tantissimo E ho detto Cacchio però arriva il king di questa roba qui Chissà come mi giudicherà Che cosa ha lui invece dall'altra parte Perché va bene I tuoi video si vede Un sacco di roba Un sacco di roba bella Che collezioni Che mantieni Quali sono le cose a cui tieni di più? Vale Guarda io sono arrivato a una conclusione Le robe che colleziono di più Sono le cose che non mi potevo permettere da bimbo Quindi Colleziono più che altro Carte Carte sono fissatissime A me piacciono in generale tutte le carte Non sono un amante dei brand Ma un amante delle carte in generale Come prodotto collezionistico Quindi a me piace tutto Pokémon, Yugi, Magic Poi anche lì ci sono le varie criticità Le cose che non mi piacciono Le cose che mi piacciono di più Poi le trading card in generale L'unica cosa che non colleziono Sono le carte sportive Perché io vedo Perché hai tante robe sportive Intorno Ma le carte firmate Scarpe Io non ce la faccio Perché non mi ha mai appassionato allo sport Ed è proprio per quello Che non giudicherò mai una collezione altrui Perché la collezione per me è una roba Iperpersonale Cavolo certo Quindi ognuno far cazzo e vuole Per me poi colleziona anche I Bearbrick Che mi fanno vomitare Però se ti piacciono O le pop Ho visto delle fanco pop A me non piacciono Che io peraltro ho tirato fuori dalla scatola Anche so che anche lì C'è una corrente di pensiero Il mio più grande amico Socio collaboratore Davide Masella Che ho tutti i giorni in studio Me ne ha piazzate Quarantamila in studio Mi tocca pupammele tutti i giorni Nonostante le detesti E lui per esempio Le tiene in scatola E poi Prende anche la plastica Per la scatola Siamo alla follia finale Livello eccessivo e superiore Next level Che cosa non ti piace ad esempio Per dire Tu dici Le fanco pop Per dire È che non hanno un Allora hanno quelle A parte quelle cartunesche Che lì è facile È difficile Riconoscere il soggetto E le vedo molto stereotipate Quindi è proprio Dal punto di vista estetico Non ti piace? Io do molto spazio Dal punto di vista estetico Ok La composizione E quindi qual è la cosa Il meglio oggetto Da questo punto di vista? Cioè Dici Proprio prodotto chip Che collezione Sai che forse non c'è Non ce n'è No così no No non ce n'è E invece come a livello di Costano 15 euro Forse gli amiibo Gli amiibo sono veramente Fatti bene Però è un prodotto Solo videoludico Con le fanco pop Invece c'è spazio A tutto il mondo Beh fanco pop è diventato Iconico Insomma È davvero Davvero iconico E invece come action figures Ce n'è qualcuna in particolare A me piacciono le statiche Le action Tutte quelle snodabili Mi fanno un po' Perché non so mai In che posizione Poi non sei Non vai lì a cambiarle No mai Tu ne metti una Ed è quella Io ne ho qua due Di Michael Jordan Di lui inizio carriera E lui è la fine carriera A cui tengo tanti Credo che sia stato Il mio primo video Forse virale A tutti gli effetti L'unboxing Su TikTok Eh si vede Era un figlio ricercato Ma sì ma poi Sono fatte molto molto bene Infatti sono costato un botto E tutti mi dicono Ma come hai speso Tutti quei soldi Ma fatevi cazzi Ma come vai a spiegarla Quella roba lì Oggettivamente Quando viene da te qualcuno E ti chiede Delle tue passioni Non si deve nemmeno Più spiegare Capito Cioè Allora Devi partire subito Passivo aggressivo Secondo me Perché non devono rompere Coglioni È come se io Ti vedessi L'orologio al collo Le scarpe di marca Dici Come è malato Saranno cazzi miei Cioè Ma che problema c'è Mi garbano L'ho comprate Poi io non collezionerei Mai orologi e scarpe Perché Certo Un'altra cosa Però se spendo Mille euro Però spesso e volentieri Io ad esempio Ho il problema Invece anche delle scarpe Però anche lì Io ho una fissa Non è la scarpa in generale O la marca È la scarpa Che mi racconta qualcosa È l'oggetto Che mi racconta qualcosa Infatti Quando io ho comprato Il Black Lotus Io ho comprato Il Black Lotus beta Che è il sogno Di ogni collezionista di carte Perché è il simbolo Del collezionismo di carte Gradato 9 Tra l'altro Gradato 9 Vuol dire La valutazione Che viene data A come viene tenuta Questa carta Esattamente Sei bravo Vedi Te sei più bravo Si dopo è scontato Te niente Mai per scontato Bravissimo L'ho pagata Un botto di soldi Però io non ho problemi A dirlo Quindi l'ho detto pubblicamente La gente Ma come Quanto se l'hai detto Non era meglio Comprare una macchina No Se no comprava una macchina E quanto è speso L'hai detto Sì 38 mila euro 38 mila euro Per una carta Però la sensazione Che io me lo riguardo Ogni tanto vado in banca Me lo vado a vedere Cioè la sensazione Di avere La carta Non trairà nessuno E non vale 38 mila euro Molto di più È impagabile Certo Ma è un investimento Anche oggi Una cosa del genere No non lo so Ma lo è Tecnicamente Ma ha fruttato Perché in due anni È arrivata a 100 mila Quindi è già salita Però tu una roba del genere Come fai a vendere Non la venderei mai Sì è come da un braccio Che è l'altra cosa Perché poi il mondo Si divide in chi In questo mondo Ci vuole investire Quindi si prende delle cose A cui non dà nessun tipo di valore Compra in massa Mette soldi E poi li rivende Ci sono i reseller Ormai Sia delle scarpe Ma anche di tutto questo mondo Però poi Invece è l'appassionato Che la prende In realtà O sta andando proprio in malora E quindi si è messo male O se no Non lo venderai mai Ma io anche se Andassi in malora Il Black Lotus muore con me Ma più che altro Perché fin da ragazzino Tutti l'hanno desiderato Tutti ne abbiamo parlato Era una carta leggendaria E lo è ancora Nonostante tutto Quello che è successo Quindi Tra l'altro Vabbè Sul mondo delle carte Ci ritorniamo Perché secondo me È molto interessante Quello che sta succedendo In questi anni Però dato che Non diamo niente per scontato Ipotizziamo che Questo video Lo stia guardando Anche qualcuno Che non ti conosce Dario Moccia È tu oggi Ad oggi Come ti definisci Beh Tecnicamente Sono un content creator O creator Sì All'osso Ok Sei un creator Su diverse piattaforme Sì Non mi piace La definizione influencer Ok Sono d'accordo Però Molti dicono Che in realtà Non dovremmo vergognarci Di chiamarci influencer Però a me La persona che influenza Non lo so perché Però lo vedo sempre Come un'accezione negativa No io ti dico La mia teoria Poi mi dice Se sei d'accordo Forse l'avrò detta In qualche altra puntata Però per me L'influencer Che è una parola Che personalmente Non sopporto come te È una conseguenza Di qualcosa Ok Cioè tu sei un appassionato Di determinate cose Fai bene il tuo lavoro E quindi Quello che dici tu Ha un peso Comunque sulle persone Sì Quindi l'influencer È una conseguenza Dell'essere bravo Magari a fare qualcosa Invece comunque Viviamo in un mondo In cui qualcuno a volte Ti si presenta E dice di essere un influencer Quella roba Non l'ho ancora capita Sinceramente Non la condivido Ma comunque Quando di solito Si presentano come influencer Non influenzano Nemmeno il nonno Quindi Va bene Sì Però ecco Io mi definisco Più content creator Sono creatore di contenuti Non solo all'interno di internet Ma anche fuori Anche perché Io mi ricordo di te In tantissime vesti Nel senso Nel corso Nel corso degli anni Prima L'iniziale Ti raccontavo Che secondo me Ci siamo incrociati A un look a comics Per una cosa legata Al mondo del cinema E comunque Ti ricordo come youtuber Ti ricordo Adesso sei Un paio di dirette Su Twitch Sì Streamer Quindi Ti sei anche tu Un po' Evoluto Alla ricerca Della tua dimensione Com'è stato il tuo percorso Tu quando hai iniziato A fare questo Allora Twitch L'ho iniziato a fare Quattro anni e mezzo fa Forse ora ci avviciniamo Ai cinque Non ricordo Con precisione Sinceramente Però all'inizio Avevo iniziato Twitch Per avere un contatto Più diretto Con il mio pubblico Che mi vedeva sempre meno Perché i miei video Diventavano sempre più Impegnati Tra virgolette E quindi ci mettevo Un mese Per farne uno Quindi usciva un video al mese Mi vedevano sempre meno Questo su Youtube Perché tu in realtà Parte tutto quando? Ah Il primo La prima cosa che hai fatto online Nel 2009 Ok Ho fatto una parodia Con il mio amico Lorenzo Aiello Con cui ho aperto Il mio primo canale Youtube Ed era una parodia basata Sui Pokémon Che andò molto bene All'epoca Era una web series Però in tempi non sospetti E noi non la chiamavamo Assolutamente Web series Perché non c'era nemmeno Questo termine Cioè forse c'era Però non volevamo Incensarci così E E niente È andata bene E poi io A un certo punto Mi sono staccato Ho fatto un canale mio Nel 2011 Dove parlavo di fumetti E cartoni animati E poi da lì È andato tutto Come Insomma Il resto è storia Ecco diciamo così Beh lì tu hai creato Tutta una serie di contenuti Appunto legati Legati a questo E lì ti stavi accorgendo Che c'era un pubblico Sempre maggiore Che voleva questo tipo di contenuto Forse sì Oppure c'erano persone Che avevano bisogno Di trovare un portavoce Per passioni Che erano state Sempre demonizzate O perculate Soprattutto in certe zone D'Italia E niente Poi in realtà La storia ha fatto il soccorso E anche in Italia Poi queste passioni Sono state ampiamente rivalutate Integrate Nelle passioni Considerate normali Dall'uomo della strada Quindi in un certo senso Ho avuto fortuna Perché sono cresciuto In un periodo Dove tutto è cambiato E sono riuscito A intercettare Un tipo di pubblico Che aveva proprio bisogno Di questo secondo me Però tu sei anche Proprio la dimostrazione Che insomma Se tu parti Raccontando delle tue passioni Parlando delle tue passioni Senza sapere Se di là E poi effettivamente C'è qualcuno Che l'avrebbe ascoltato Magari non lo sai In quel momento lì Però hai talmente Tanta voglia Di condividere questa passione Poi in realtà La forza è che oggi C'è sempre qualcuno Pronto ad ascoltarti Ora sì 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 certo Però ci sono sempre più persone Che hanno La volontà Di schippare subito Dopo pochi minuti Se sei noioso Ormai la gente Lo capisce subito Secondo me Se non funzioni O se sei tappezzerie E quindi Vanno subito ad alto Perché ora veramente Il mercato è super saturo Ovunque Su youtube Su twitch Su spotify Su audible Dappertutto Veramente C'è qualsiasi cosa I contenuti Scusami Veloci Mordi e fuggi Sono Stati rimpiazzati A contenuti Sempre più lunghi Sono esplosi Podcast La gente ha voglia Di sentire 20 30 40 Minuti 60 Minuti Una persona Che parla E basta Lo sai Di me E quindi Adesso Devi saper funzionare Soprattutto Devi reggere Botta Per un'ora E tutte Le persone Che su youtube Facciamo minuti Da due minuti Che in mezzo Perché avevano paura Di essere Schippati Adesso si ritrovano Con un pugno Di mosche Perché il mercato È cambiato E lì Conta la sostanza Cioè cos'è che fa La differenza Secondo te oggi Allora In un podcast Ti faccio la differenza Tra twitch e podcast Perché secondo me Sono due cose Un po' diverse Anche se ci sono Delle forme Ibride Molto interessanti La differenza Tra un bravo Podcaster E un bel podcast Da un brutto podcast Innanzitutto È la qualità Degli ospiti Perché se Non hai ospiti E chiami veramente Il tuo Gino È un problema Perché non sapete Di che cosa parlare E poi ovviamente Sono i presentatori Gli host Chiamali o me ti pare Perché se Parli sopra gli ospiti Se non sai cosa chiedergli E non ti sei preparato Una sega Appena arriva l'ospite In studio Gli fai Allora Com'è? Tutto a posto? Cioè diventa veramente Problematico E dopo cinque minuti Finisce l'intervista Quindi non c'è bisogno Di format Giochi Attività È il contenuto Basta Veramente la gente Basta la qualità Dell'intervista Mi sono reso conto Anche con questa avventura Poi facendo anche la radio Che poi è un mezzo È diverso Anche se il tipo di radio Che faccio io Che facciamo DJ Un po' si avvicina Forse Ma è La forza sta nel creare Quel tipo di Di connessione Tra le persone Che stanno parlando In quel momento Esatto E in qualche modo Poi lo spettatore Si sente lì No? Quindi Un bravo presentatore Un bravo host È quello Che riesce subito A mettere a proprio agio L'intervistato Cioè Per quello Secondo me E questa è un po' Una provocazione Però secondo me è così Fare le interviste Tramite webcam Tramite un'app È comunque meglio Dello studio Perché lo studio A meno che quella persona Non sia super spontanea Proprio nella vita Di tutti i giorni Un pochino c'è L'ansia dello studio Del microfono Eccetera Quando invece L'ospite è a casa sua Sul sul letto Sul sudivano Nella sua zona di comfort E poi internet Si sente subito A casa Capito? Allora Tra l'altro Era una cosa Di cui volevo parlare Perché ho seguito Ovviamente tutte le interviste Che hai fatto Che hai fatto anche tu Tu hai anche scritto Su alcune Perché io invece Ad esempio La penso al contrario Nel senso Secondo me Il ragionamento è lo stesso Però in realtà Io preferisco Avere l'ospite In questo caso Come sei tu qui con me Ci guardiamo negli occhi Cioè L'atmosfera Si crea quella cosa E per questo Trovo Anche più difficile A volte invece Fare quello Con la connessione Però perché te sei bravo A mettere a proprio agio L'ospite Capito? Lo spero Ti devi mettere Di mettere in conto A volte L'intervistato Ti fa entrare Ti dà mano All'assistente Che ti microfonano E a volte L'intervistatore Vede l'ospite Solamente quando Ce l'ha davanti Quello è un errore Secondo me Non si può Mica fare una roba Non è più la RAI Dell'anni 80 È cambiato Non funziona Anzi A volte poi Anche le chiacchiere Prima servono Non dico per scaldarsi Però per conoscerti Assolutamente C'è sempre quella cosa Anche con te Prima quando sei entrato No però aspetta Sta cosa non te la chiedo Te la chiedo dopo Perché mi piace magari La spontaneità Nel momento Lo faccio anch'io così Quindi ci sta Però mi fa piacere Che ad esempio Questa cosa La noti tu Che insomma Sei cresciuto Facendo altri contenuti Sei arrivato adesso A fare questa cosa E si vede che la fai Con coscienza Nel senso Invece Oggi tante persone A volte accendono il microfono Quello che succede Succede Ma secondo me Poi la differenza Si vede Ad esempio Perché nel tuo caso Non è un podcast Mi dicevi che secondo te C'è una cosa È diverso È un po' diverso Io più che altro Sono una sorta Di intrattenitore Live Quotidiano Cioè io sì Ho un palinzesto Ho le mie rubriche Le mie cose Però non definirei Cioè Non c'è niente In realtà Che sia definibile Format All'interno del mio palinzesto Perché il format Per me è una roba Molto seria Cioè ci deve essere Un autore che lo scrive O più autori che lo scrivono Ci deve essere un'idea Un Deus Ex Machina All'interno del programma Che porta avanti Gli ospiti E il discorso degli ospiti Ora io sto provando A introdurre Più punti macchina Sto provando A introdurre Il mio primo format Post pub Che era la rubrica Più Più gettonata Del mio palinzesto Soprattutto in periodo pandemico Perché chiaramente La gente si sentiva Un po' a casa Con gli ospiti Ora ovviamente La pandemia è finita Lo facevo il venerdì sera Lo faccio il venerdì sera Il venerdì sera La gente va a ballare Gli porta una bella sega Del pub vero Ancora buoni numeri Ma non i numeri della pandemia Chiaramente Però ho deciso di cambiarlo Perché voglio creare Proprio uno show Con più punti macchina Gli ospiti L'intervento da casa Quindi è forse Il mio primo format In assoluto Ma non hai paura Che strutturando troppo Un format Cioè che la gente Questa è una paura Che invece magari Ogni tanto A cui penso anche io Cioè se strutturi Poi troppo il format E vuoi fare il format Televisivo Perdi Tra virgolette Quella spontaneità Che arriva Invece al pubblico E per cui Ci penso sempre Io a questa cosa In realtà no Perché innanzitutto Però ho un'importanza Come al solito Assoluta La chat Quindi quando leggi La chat Già la spontaneità C'è Perché Te non metti più Il muro Tra il format E il pubblico E il pubblico E parte integrante E poi soprattutto E siccome sarà un format Da due ore Dopo un'ora Intervengono proprio Gli spettatori Dal discord Quindi La spontaneità È veramente difficile Anche perché C'è il pubblico Che è la cosa Più spontanea Del mondo E poi Sarà sempre Con me Cazzeggione Molto peggio Di quello che stai vedendo Davanti a te Quindi No Non ci saranno problemi Ok Anzi Aumenti la qualità Che poi è la cosa Più bella oggi E basta È solo una questione tecnica Anche perché L'altra cosa Di cui mi sono accorto Strada facendo Proprio adesso Avendo sperimentato La radio La tv Facendo cose È che L'impatto che ha Fare una cosa Su youtube Fare una cosa Sulle piattaforme Che funziona È incredibile Cioè nelle persone Ha un impatto superiore A tanti altri media Se non stiamo parlando Della diretta Del festival di Sanremo Diciamo Di qualche programma top Ha un impatto Incredibile Per cui Sempre di più Le persone Guardano contenuti online Al di là Che siamo sempre in mano Col telefono Ma tanta gente Ormai i video Anche questo podcast Lo vedono in televisione La sera Cioè Ci sta quindi Investire A aumentare Anche la qualità No no Anche perché Loro si scaricano I podcast Se lo mettono in macchina Se lo sentono in treno In pullman Chiaramente Siamo diventati Siamo diventati Una sorta di compagnia Di voce ronzante Nella testa continua Delle persone Che semplicemente Vanno al lavoro Vanno a scuola Ed è bello Perché io Speravo tanto In una riscoperta Del contenuto lungo Il contenuto ricercato Le chiacchiere Io sono ossessionato Da quando sono piccolo Dalle chiacchiere Io Sono cresciuto Veramente Avevo 5-6 anni E mi madre e mi padre Mi mettevano davanti Il Pippo Kennedy Show E poi Ottavonano Tutti i programmi Da Dandini Sono stato innamorato Per tanti anni Della televisione Della Rai Di quello che faceva Della Rai Sono fissato Anche con Con tantissimi programmi Anche quelli Anche quelli Della mattina Non riesco a vedermeli Però riesco a recuperarmi Quelli Quando c'è una puntata E mi interessa Me li recupero in past Su Rai Play A tuttora questo? Sì I mielli Mi piace tanto Perché secondo me Tu di che anno sei? 90 Novanta Noi siamo in quella generazione Un po' in mezzo Cioè che siamo ancora affascinati Infatti io dico sempre Che sognavo di fare un lavoro Che non esiste più Che era il VJ di MTV E ne faccio uno Che non esisteva Cioè pensare di fare questa cosa Su Youtube Su Spotify Su dei social miei Dove ero continuato Era impensabile Quando eravamo piccoli Il VJ Anche io lo sognavo sempre Solo che avevo Il problema dell'inglese Io sentivo gli sti vic Che parlavano perfettamente In inglese Io facevo schifo Faccio ancora schifo al cazzo E boia Tremendo Però lo siamo Però dai Quando eravamo piccoli Noi ragazzini Tornavi da scuola Io ero innamorato Non so che fine ha fatto Di Jeep Ma certo Chissà che fine ha fatto Allora io l'ho visto Un mese fa Un evento Non l'avevo mai visto prima L'ho fermato E gli ho detto Jeep Io ti devo tantissimo Tu non lo sai Lui ha cambiato vita Lui ha cambiato vita Completamente Fa tutt'altro adesso Non so se si occupa Di trading O di start up Comunque Faccia delle gag Di camera Lui ha cambiato Ti ricordi MTV Mad Poi io morivo Da ride Ma infatti Io l'ho ringraziato E lui ancora Secondo me Un po' Quell'aura da matto Totale Lui era la cosa Più vicina a Jackass Che abbiamo avuto in Italia Era veramente lì E mancava veramente poco Per me Se riuscite Non sapete di cosa stiamo parlando Andate a recuperarvi Quello che faceva Prima su MTV E poi anche alle Iene Ha fatto un po' Le classifiche Cazzo che figata Mamma mia Io morivo da ride Ero lì tutto il giorno Poi lo mettevano tardi Perché a volte Faccia delle pesate Veramente Però io aspettavo Stavo lì E dovevo andare a scuola Però lo dovevo guardare Tu porti un po' Di queste cose In quello che fai Al di là del contenuto Cioè hai quel retaggio lì Sì Jackass e GP Io ce l'ho nel sangue Cioè proprio quella roba lì Matta Io se non ci fosse Il toast di Twitch Ferei molto peggio Direi cose molto Molto più pesanti Perché per me veramente Il toast di Twitch Scusami è il regolamento Il regolamento Ok No no Traduco Sei impeccabile Io mi scordo di questa cosa No dipende Però quando sei sulla piattaforma Tu probabilmente Lì tutti sanno Che cos'è il toast Non ti crede A volte fagli passare Una roba è difficile Ok Sono molto duri a volte Di coccio Però Sì È così Anche perché io credo Veramente che quando accendi La telecamera E sei sul palcoscenico di Twitch Sei su un palcoscenico Quindi ti puoi permettere Anche delle scienze poetiche Delle battute Delle robe Molto pesanti Che non dici nella vita Di tutti i giorni Perché sei una persona normale Ok Però lì sei in una zona Di comfort O comunque È un palco Io sono d'accordo Sul fatto che si deve dire Quello che ti pare Devi dire quello che vuoi Quindi il tuo passaggio Da YouTube A Twitch È stato per questo motivo Cioè quello di cui mi parlavi prima No non solo Anche i soldi Sì Quella è una componente Un'altra componente Di cui sento sempre parlare Devo dire la verità Ma i soldi Ma perché semplicemente Non perché se ne facevano tanti Se ne fa tanti Ci mancherebbe Ma non è quello Io sono passato Totalmente Da YouTube A Twitch Perché io non campavo Più con YouTube Cioè proprio Non campavo Cioè guadagnavo 60 euro al mese Però invece prima sì Nel senso che è cambiata Questa cosa No è che prima Stavo con i miei Poi per creato Un'indipendenza Se va a comprare a casa Però è rimasta sempre uguale Quella cosa lì Non è che è diminuita Nel tempo di YouTube No per me Era rimasta sempre uguale Perché facevo un video al mese Ok certo Per campare su YouTube Bene devi fare un video Ogni giorno Ogni due giorni E poi devi totalizzare Tante visite Io facevo dei documentari enormi Che raggiungevano 60-70 mila visite Ma dove vai Chiaro Non puoi camparci E invece su Twitch La monetizzazione è diversa Sì ma anche perché Faccio live tutti i giorni Ora io parlo con te Poi dopo vado a fare un'altra cosa Poi piglio la mia macchinina E torno in Toscana Perché stasera E fai la live stasera Ma come io Questa roba non la capisco Tutti che dicono Eh ma certo Ma vedi è molto limitato E allora chi fa televisione e radio Tutti i giorni in diretta Cosa dovrebbe fare Non è che può andare A farsi i cazzi propri Deve tornare poi in studio A lavorare Cioè Carlo Conti Penso Che abbia una vita Non ti dico come la mia Ma quasi Beh sì E' più la radio secondo me Perché io quando ho la diretta Io devo essere in diretta Dalle 14 E poi di nuovo ci vado oggi Cioè capito E gli altri impegni Devono gravitare attorno A quella roba Perché resta comunque la priorità Insieme ad altre cose che faccio Ma che cena C'è in prima C'è in le 7 E' esattamente quello Ed è il motivo per cui Prima ti dicevo Non sto riuscendo A buttarmi sulle live Proprio perché richiedono Un impegno quotidiano E' troppo grande Quando io magari C'ho già altre C'ho già altra diretta Quella è a radio C'ho questo E così E così via Però insomma Quindi l'approccio è stato Sei partito subito Con tanti Con tutte queste live No In realtà no Cioè Ti ripeto Più un passatempo Così E' scoppiato tutto Dopo un annetto Un annettino Però è dove stai raggiungendo Il successo maggiore O sbaglio? Sì 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 Ok Anche Successo dipende Se parli di numeri Ok sì Però A me piace Io parlo di Di impatto Di impatto Di fare tu una cosa Per cui vieni riconosciuto Cioè avere tu un posizionamento Che vuoi E raggiungere anche Le persone giuste Ti dico Twitch Però per esempio La cosa che abbiamo fatto Con J-Pop Che è una casa editrice manga Che mi ha avvicinato Per della promozione Siamo rifiniti A comprare una licenza Giapponese Per portare un manga Che ho sempre desiderato Vedere in Italia Da quando sono ragazzino Non è mai uscito in Italia E avere il potere Decisionale Di collaborare Con una casa editrice E decidere Di comprare Di diritti Per portare E fare un'edizione italiana Di cui poi J-Pop Ti dà anche La cura editoriale Beh per me Quella è la soddisfazione Più grande Però attualmente È la soddisfazione Più grande Che ho raggiunto Beh quello è Perché è la tua passione È un qualcosa Che sembrava impensabile E hai anche un ruolo Importante all'interno Di questo progetto E poi io Ho proprio in mente Di rivoluzionare un po' Il concetto Di portare Un nuovo manga In Italia Storico Per esempio Il lancio Di cui mi sono occupato L'ho fatto in grande Ho portato la macchina La replica Di questo Perché è un manga Di corse Quello che si chiama Initial D Abbiamo preso La macchina Del protagonista L'unica in Italia Con quella livrea E l'abbiamo portata Alla games week Per farla vedere Al pubblico E abbiamo lanciato L'annuncio Abbiamo fatto l'annuncio Di quando uscirà Questo manga E poi ho chiamato Danny Lazzarin Che un mio amico Ci ha fatto Insomma è stato Proprio un lancio In pompa magna E voglio Far diventare Questi eventi Una festa Una festa Per il lettore Perché è un riconoscimento Capito Tra l'altro È anche Il momento giusto Nel senso Io ricordo Quando leggevo I manga I miei primi manga Che è stato Da Dragon Ball A Sensei A tutto Il mondo Che poi erano I cartoni animati Eccetera eccetera Non se li filava Nessuno Adesso ogni volta Che apre una classifica Di vendite I manga Sono più venduti Dei libri Cioè hanno È veramente Un momento Un momento Incredibile Che secondo me È stato alimentato Proprio Da persone come te Cioè da persone Che hanno raccontato La propria passione E l'hanno condivisa Con 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 gli altri E Secondo te Crescerà ancora di più Non lo so Guarda Se ne parlava Con Ratiger Che è un fumettista Italiano Molto in gamba E lui Amante dei manga E ha fatto Direttore editoriale In Coconino Che è una grande Casa editrice italiana Di fumetti E lui Non crede Che la bolla Scoppierà Ma che anzi Come dici te Forse aumenterà Un pochetto E l'altra cosa Di cui mi rendo conto È che Ci sono Mondi Paralleli Grandissimi Che continuano Però ad andare avanti In parallelo Tranne in rari casi Cioè ad esempio Tutto questo mondo Di cui abbiamo parlato Fino adesso È gigante Fa dei numeri Incredibili E c'è tutta un'altra parte Di paese Che non è neanche Quasi al corrente Cioè è incredibile Come questo periodo storico Viva così Cioè Credo sia un problema Generazionale Cioè è sempre bello Il problema È che I giovani Fino ai 30 anni Ma anche qualcosina di più Ormai lo sanno Chi nascerà Dopo di loro Lo saprà Di base Il problema È che il gap Generazionale È aumentato ancora di più Quindi la generazione Di miei genitori A parte Gli appassionatissimi Non lo sanno Però a volte Anche la generazione Stessa Che magari Segue altre cose Perché tu sui social Segui quello che vuoi Quello che l'algoritmo Ti dice E di conseguenza Escludi un mondo Che magari poi Invece Magari in qualche modo Si potrebbe anche Connettere Però credo che Tra le varie soddisfazioni Di cui parlavi Anche prima C'è stata quella Appunto Del pub Che stai facendo Dove hai portato Comunque ospiti Ospiti importanti Nel tuo mondo E quella è una figata No? Sì Beh Più che Nel pub Nelle interviste Nelle interviste Del martedì Sì Perché Anche grazie all'aiuto Di un giornalista Di Repubblica Che si chiama Gian Maria Che poi è diventato Il mio Gian Maria Tamaro Sì Ah grande Sì è il mio assistente Sulle interviste Molto amici E lui Mi ha aiutato un sacco Con gli ospiti Prima gli andavo a cercare Io veramente Con il cortello Tra i denti Su Instagram Poi lui mi ha dato Una mano Perché chiaramente Ha intercettato Tutti gli uffici stampa Che vogliono fare promozione Per libro Album Film E quindi gli ospiti Hanno il piacere Di girare Sì E poi di trovarsi Anche in una piattaforma Con un pubblico Magari diverso E a volte Magari anche più a fuoco Rispetto Di quello Di cui uno deve parlare Io mi sto accorgendo Sempre di più Che funziona Di più questo Che Un Magazine Generalista O un grande giornale Che però Fa la sua cosa Dove comunque Un po' Si perde Si perde via Chi sono gli ospiti Che ti hanno stupito Di più? Ma Rocco Tanica Perché È un grande Cioè è proprio Un grande Artista Una grande testa È veramente Il numero uno E poi Lundini Che io adoro Valerio È forse un amore Spropositato Nei suoi confronti Che cresce ogni giorno Sempre di più E poi Che mi hanno stupito Caparezza Però sono Scontati Perché sono dei grandi Non è scontato Magari che dici quel nome Non è scontato Che venga Nel tuo Nel tuo format Quello no Quello no Infatti Caparezza Mi ha stupito Comunque un artista Che si mette in gioco Che capisce Che forse può anche Non uscire Cioè non per forza Andare sui classici Binari tradizionali Che forse funziona Che approccio hanno avuto Loro nei tuoi confronti Ti ricordi? Ma Lundini positivo Perché bene o male Lundini fa finta Anzi per niente Ma sa tutto Caparezza Non me l'aspettavo Ma è stato Gentilissimo Bravissimo Rocco Tanica Mi ricordo Mi chiamò Tanto per mettermi A mio agio E mi disse Guarda Dario io vengo Però mi raccomando Non voglio L'effetto Wikipedia Cioè che Guardi le robe Su Wikipedia E me le leggi Per farmi delle domande E ho detto Guarda io seguo Gli Eli dagli anni 90 So tutto Credo che non ci sarà bisogno E infatti Mi ricordo Che a fine intervista Che durò un'ora e un quarto E lui non voleva smettere No ma come È già finita Rocco È un rapimento E mi fa Grazie Perché guarda È la mia E migliore intervista Degli ultimi anni E se ne andò così Se hai acceso Due o tre drummini Gli ne fregavano a sé Che era proprio In pace con se stesso Che bello Sarà la più grande soddisfazione Della mia vita Penso a livello di intervista Quando ti arriva un feedback Di questo genere Da gente che ha fatto Un miliardo di interviste Con una carriera grandiosa Come la sua Ero veramente preparato Perché sono fissatissimo Capisco Poi questa cosa Comunque poi l'ospite Lo sente in qualche modo Quando ci tieni Anche tanto alla Alla conversazione No? Quindi insomma Gli altri Quanti anni fa? Hai fatto anche Piff Hai fatto anche Ma anche Piff Mi fece un sacco I complimenti Perché fa cazzo Ma del programma Ne sai più di me Lo so Perché io L'ho sempre stimato Tantissimo Piff Soprattutto per il suo Percorso antimafia Per quello che ha sempre fatto Con il testimone E Però Ebbè Un anno e mezzo Adesso che intervisto Un ospite a settimana Quindi fai il conto te Insomma saranno 15 mesi Fai 15 per 4 Sono tanti E come reagisce La community Ai vari ospiti Sempre bene Perché poi commentano In diretta loro No? Ti è mai capitato Che qualcuno Cioè l'ospite Vede i commenti? Raramente Ok Il 5% Sarà dell'ospite Che si metta Legge commenti Vabbè E su Twitch Giusto per capire Sempre un po' Come funziona il meccanismo Che un po' Lo so Però Per capirlo meglio Cioè tu hai Ci sono gli abbonamenti Quello che ti fanno Che ti fa guadagnare Diciamo no? Quindi ogni persona Che si iscrive In qualche modo Al tuo canale In realtà si abbona Ah c'è il follow Che basta mettere Ah nella mia chat Si può commentare Solo se sei follow Ok Cioè solo se sei follow Puoi commentare sempre Basta che metti il follow E poi puoi commentare Però C'ho anche gli abbonati Gli abbonati si Sono quelli che saltano Le pubblicità Hanno dei vantaggi in più Che gli diamo noi Per essersi abbonati Gli diamo ovviamente Schippano le pubblicità Di base Poi hanno l'emoticon Hanno il gruppo telegram Hanno il discord Che io curo abbastanza Ci sto parecchio dietro Io ho un contatto diretto Tutti i giorni con loro Ok Qual è la soddisfazione più grande Che hai avuto Che ti è capitata Incontrando poi le persone Che ti seguono Beh il fatto è Che tante di quelle persone Che leggo regolarmente In chat Poi sono diventate mie amiche Proprio mi frequento Ci fa vacanze Feste Sì Serate Poi io sono uno Che non va a giro Nascondendosi Anche alle fiere Non giro mai alla sicurezza Non me ne frega niente Cioè Lo trovo ridicolo Cioè immagino Quando tu vai al Luca Comics È proprio il tuo mondo No Ormai proprio Non vivo più Lì è No Nelle fiere Non è più possibile vivere Cioè Guarda Nell'ultimo Luca Comics Ho parcheggiato la macchina E Sono entrato nelle mura Appena sono entrato nelle mura Per fare 500 metri Io ci ho messo un'ora e mezzo Non sto scherzando No no ma ci credo Un'ora e mezzo Era solo foto Sì sì Ma non lo dico per flexare No 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 O mi metto una maschera O giro il cortizio Che Però invece per te è bello Poter avere Questo tipo di confronto È bello Però C'è da dire che a volte Non Non si accorgono Né me Cioè Te sei tutto lì Paonazzo Che sei in ritardo Per un appuntamento A volte ti fermano Proprio così Fisicamente Si si fa Dario la foto Devo andare Dai ma è una Non capiscono che non è una Perché chiaramente poi Notano quegli altri Che si stanno facendo E si crea subito La res Però sono anche bravi Quindi Ora hanno capito Fanno ah no no Si si E rinunciano Poi ognuno Crea oggi La figata di oggi Che crea in qualche modo Il pubblico Che si merita Anche a livello di educazione Di carineria Cioè è bello vedere Che quando Chi ti segue Al di là di quello Che qualsiasi cosa Faccio nella vita In realtà Comunque ha un certo tipo Di atteggiamento Infatti io riconosco subito Quello che ti segue Da tanto tempo E segue veramente Non ti dico ogni live Ma quasi E quello che invece Si fa la foto Perché sa chi sei Ma non ti segue veramente Però vuole la foto Uguale Non si sa mai E con gli altri creator Che rapporto hai Essendo tu Sulla scena Nella scena Da tanto tempo Hai diverse Fa rire Quando riconosciano Perché mi ricordo Dalla scena hip hop Dove si sparavano addosso Essendo tu Della west coast Si 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 Con chi Con chi Hai legato di più Negli anni Con chi Tantissime persone Io Vengo visto Come il collante Tra un botto Di community Che non hanno a che fare Niente tra di loro Però diciamo Allora Ti dico Quelli con cui Legato di più Sono il Masseo Edoardo Che è Veramente un personaggio Esplosivo Però a me piace più Il suo carattere Secondo me si sta evolvendo Io non l'ho mai conosciuto Personalmente Però guardando un po' Da fuori Mi sembra che stia Nel tempo Evolvendo Nel segno buono Sta cercando nuove strade Diciamo così Sta crescendo Non so se si può dire Però insomma È un modo per dire Che Insomma Anche con questi mezzi Con queste connessioni Eccetera C'è anche Ognuno di noi cresce In qualche modo E la gente lo E la gente lo vede Quindi lui mi dicevi Il Masseo Sì Lui Poi Curo Lili Sara Che per me È veramente La streamer Diciamo Come la concepisco io Ecco Fa quello che gli pare Quello che le pare Diciamo Sbaglio sempre A Toscano E si mette a fare Sui gameplay Sui giochi Le sue robe E non rinuncia a quelli Fa quello che gli pare Poi Persone con cui Ho legato di più Sono quelli che poi Sono diventati la mia crew La Tomodachi crew Che è questa crew di streamer Che però È la parodia di una crew Non è una nostra seria Cioè è una roba Siamo 4-5 dementi Che spesso giocano insieme E che sono amici Con loro Ho legato tantissimo Sui soliti Insomma E poi Ce ne sono veramente Certo Ma anche della scena di youtube Invece Con loro ho legato di più Per esempio Victor Laszlo Che ho sempre sentito parlare E comunque avevamo avuto Già dei rapporti Ai tempi youtube Grazie a twitch Ci ho legato Molto molto di più Abbiamo fatto tante robe Fige insieme Cosa ne pensi invece Di twitch Però Nell'accezione Invece Di cui in questo periodo Un po' si parla più negli Stati Uniti Ma anche in Italia Cioè Non dico di chi lo usa In modo sbagliato Però In quella direzione lì Che molti Magari ci cascano In un tunnel Nel senso che tu Hai Forse perché arrivi Hai anche un background diverso Eccetera Hai un certo approccio La vivi in un certo modo Eccetera Poi twitch Come altre piattaforme Eccetera C'è chi ci casca dentro In qualche modo Poi esclude tutto il resto Insomma Si parla di casi di depressione Di casi Un po' diversi Ecco Eh beh Guarda Per citare un'altra persona Con cui ho Ho legato tantissimo Grazie a twitch Che è Simone Panetti Lui per esempio Ha visto sempre twitch Come un modo Per esprimersi Perché voleva fare Tipo delle performance Artistiche No lui Perché l'ha un po' Abbandonato Era abbracciato la musica Ecco Quando lo utilizzi Così per divertimento Non cadrai mai In delle persone Certo Il problema è che Ci sono persone Che lo fanno Perché lo devono fare Cioè magari hanno iniziato Divertendosi Durante la pandemia Ci andavano tutti Su twitch Tutti Anche personaggi televisivi Sono venuti su twitch Per poi scappare a gambe elevate Appena hanno riaperto I cancelli E poi Dopo il divertimento Non sapevano più cosa dire Ed è diventata Una sorta di maledizione Perché se ti fermi Su twitch Chiaramente La gente si abbona Ad altri streamer Te perdi abbonamenti Perdi La tua principale Forma di guadagno E chiaramente Poi tutto Esplode E quindi inizi a guardare Quel numero Quel numero cala Quel numero ti fa andare In depressione Ti fa andare in depressione Il fatto di accendere la live Non sapere cosa dire Insomma è un cane Che si morde la coda Perpetuo E quindi poi impazzisci Io per ora Non ho avuto problemi E non accendo nemmeno A avere problemi Di questo tipo È una struttura tua Molto forte No ma a parte quello Mi diverto proprio Sì 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 Cioè a me il garba Fa le live Sì sì A me il garba La sera accende Legge le stronzate in chat E ridere Un tuo collega Di cui non farò il nome Mi disse twitch paga tanto Troppo E io sono schiavo Di questa cosa qui Cioè col fatto Che paga tanti soldi In qualche modo Io mi sento costretto A stare dentro Questo meccanismo Che però Mi ha annullato La vita intorno Bene No è una roba forte Mi ha colpito Poi in realtà Come tutti gli strumenti Io credo che anche twitch Sia una risorsa incredibile Un linguaggio nuovo Molte persone stanno Riuscendo a sperimentare lì Magari il lato artistico Come hai citato prima Abbiamo fatto una chiacchierata Anche con Diego Nasca Grande mio padre Che è stato fortissimo Grazie anche a twitch È riuscito a tirar fuori Altre cose Quindi sta tutto Forse nel Nel sapere utilizzare Le cose E anche nel raccontarle Nel modo giusto Probabilmente Quindi questo è È importante Dei tutti i contenuti Che fai Quello che piace di più Alla gente Che cos'è Inteso proprio I fumetti Le carte I videogiochi Non lo so Stavo sparando Sì sì No fai bene In realtà Guarda Il trucco del mio canale È il fatto che Facendo tante cose così Diverse a settimana La gente si abbona Per cose diverse E quindi io Non ho mai 14.000 spettatori Però ho 14.000 abbonati Perché? Perché lunedì È random Quindi non sai mai cosa aspettarti Martedì c'è l'intervista Mercoledì Aner Cultura Giovedì Seguo solo la chat Quindi chi è affezionato Ai fumetti Al collezionismo Eccetera S'abbona per una cosa Chi segue tutte le interviste S'abbona per un'altra roba Capito? Quindi Anche per te è più bello Perché è vario Cioè anche tu non ti annoi No non mi annoio mai Per quello Comunque il discorso delle carte Io ti volevo chiedere sta roba Cioè Devo tornare Andare in box A recuperare tutte le carte Dei Pokémon Che ho Di quando ero piccolo Dipende La domanda che mi fanno sempre Non lo so Cioè O in realtà Sono talmente poche Quelle davvero rare Per cui Non ne vale la pena No vabbè Allora quelle che valgono tanto Sono poche Anche nel vintage E poi bisogna vedere Come sono tenute sempre Perché la qualità Nelle carte Fa la differenza È totale Devono essere proprio Integre Perfette Però se lo vuoi fare Per Così No ma sono curioso Andrò comunque A recuperarle Qual è la carta Che vale di più In assoluto oggi È Pikachu Si chiama Illustrator Detto anche Pikachu Illustrator È una carta Che era un premio Che davano a un contest Di disegno Negli anni 90 Mi pare Quindi risale Arriva dagli anni 90 Sì però ce ne sono pochissime Poi ce l'avevano solo Chi aveva vinto Questo concorso Pensate cosa si è ritrovato In mano Ma è un fenomeno Che è riesploso O c'è sempre stato La pandemia Ha fatto esplodere tante cose Compreso il collezionismo Delle carte Sì Poi ci ha messo Perché io ero tanti anni Che non ne sentivo più parlare E invece adesso È ritornato Magic è sempre stato No Magic sì Ha sempre fatto Una sorta di andamento O costante Magic è incredibile Era andato anche A vedere dei tornei A vedere Io ricordo che Twitch La prima volta in assoluto Io nella vita L'ho scoperto L'ho sentito Nel 2013 O 14 Ad uno di questi Ad un torneo di Magic Che veniva trasmesso In live su Twitch Dicevo Boh cos'è sta roba Pensa Quindi da quel punto di vista È sempre stato sul pezzo Magic È sempre stato Nelle nostre vite Sempre Ora ancora di più E quindi comunque Il fenomeno Quello dei Pokémon invece Tanto prima dicevi È iniziato nel 2009 Con i Pokémon Pazzesco Come anche i Pokémon Abbiamo mantenuto Un trend fortissimo No era il brand Più Più redditizio del mondo Redditizio in che senso? Cioè nel senso A livello monetario Il brand Che fattura di più In tutte le licenze Che ha In tutte le robe È il brand numero uno Pazzesco Anche la felpa che hai tu adesso È dei Pokémon Calcola che il fatturato Che fanno dei giochi Che è la Da dove è nato Pokémon È il fatturato più piccolo Pensa te Cosa sono riusciti a creare Dopo Quando vai Quando viaggi Viaggi a seconda delle tue passioni? Sì Quindi il tuo viaggio più bello Che hai fatto fino ad oggi? Il viaggio più bello Che ho fatto fino ad oggi È stato sicuramente in Giappone Sì Perché Lì ci ho lasciato veramente tutto Tutte le emozioni I sentimenti più belli Che un uomo possa partorire L'ho lasciato laggiù Qual è la cosa più bella Che ti ricordi di quel viaggio? Beh Ce ne sono due o tre Una con mia moglie E una con i miei amici Sulla spiaggia Kamakura È stato Ok Sì Kamakura è il mio posto preferito Del mondo per ora Di quello che ho visto No vabbè Però tanta roba Sì Tanto hai citato Tu ti sei sposato di recente Cos'è l'anno scorso Quest'estate Quest'estate Sì E tua moglie Da quanto tempo la conoscevi? Da dieci anni Dieci anni E lei ha sempre vissuto Con te le tue passioni? Sì Lei è illustratrice Per libri per bambini E fumettista Per libri per ragazzi E vi siete conosciuti come? A una conferenza Venendo a vedermi A una conferenza Ok E lì tu hai capito subito? Sì L'avevo vista subito In prima fila Ho detto Chi è questa? È lei Lei era fidanzata Io ero fidanzata Ok Ci siamo rivisti Dopo un annetto Che eravamo Eravamo tutti e due single E niente Poi Sbocciato l'amore È successo E lì voi Spesso e volentieri Quindi le passioni In qualche modo Sono sempre condivise O ci sono delle cose Che tu preferisci Che lei preferisce Ma l'unica cosa In cui non concordiamo È la musica Perché lei ascorta roba Soporifera per me Tipo Scusa No A lei garba La musica Punk Punk rock L'hip hop L'hip hop vecchia scuola A me con le pompa Nelle casse Mi garba Ti gasa di più Beh Matrimonio avete fatto Un po' di cose a tema O sbaglio In realtà Non tante No Più gli ospiti Ho visto Che si sono inventati Delle cose Sì Beh Sono tutti ospiti Artistoidi O malati di mente Quindi ci siamo divertiti Parecchio Sì Perché ho visto Qualche video Qualche cosa online È saltata fuori Perché appunto Alcuni sono dei personaggi C'era Marco Merrino C'era Sdrumox Personaggi abbastanza Particolari Voglio bene a tutte e due C'era Panetti C'era Masseo Insomma C'erano Veramente un botto di persone E ultimamente Ti sta capitando Anche di collaborare Con cose esterne Legate a A youtube No In realtà Già da tanti anni Però ultimamente Anche proprio Nel creare contenuti Come ti stai trovando Con le altre realtà Come è successa Questa cosa E se ti hanno anche mai proposto Delle robe Che non c'entravano niente Con te Sì L'ho rifiutato Se non me l'hai vista E' perché l'hai rifiutato Io l'unica cosa Io accetto Tutto ciò Che mi permette Di avere carta bianca Quindi anche se Si propone un brand Che c'entra poco Con quello che faccio io Se mi lascia carta bianca Accetto Perché così Sono libero di prenderlo Per il culo Ok Mi piace molto Sono pochi quelli che Rischiano Non ti crede Però funziona di solito Ora molto di più Ok Io ho lavorato con tutti Lavorato con Mulino Bianco Con Prime Video Con Netflix A corrente alternate Ma hanno lasciato Quasi tutta carta bianca Che poi di solito E' la cosa più giusta da fare Proprio perché Sei tu che sai come funziona Quel contenuto Ovviamente senza andare a Come dire A fare delle cose Che rovinino L'immagine Fai delle robe Cioè offese Una cosa che non ho mai capito E' proprio quando appunto Arriva un brand da te Ti impone delle cose Legate Non a te Cioè nel senso Se tu vieni da me Perché vuoi una cosa Nel mio modo Se non me la fai fare Nel mio modo Non funziona Eh sì Ora l'hanno capito Adesso sempre Sempre di più Quindi accetto L'unica cosa Che non Ho poche regole Da questo punto di vista Se mi lasci carta bianca Ok Non accetto Placement O collaborazioni Che riguardino Il fumetto Perché non Voglio prendere soldi Per il fumetto Voglio farlo Gratutamente Sempre E E poi basta Direi basta E poi soprattutto Le cose Che riguardano me Cioè di cui devo fare L'art director Se non c'entrano niente Rifiuto Me l'hanno proposta In mediaia Ma ho rifiutato tutto Per organizzare La tua giornata È abbastanza organizzata E è caotica Come mi dicevi All'inizio È un po' caotica Però nelle cose A cui tengo Sono precisissimo Al limite proprio Del paranoico Rompi i coglioni Ma a sodo Ci credo Anche i miei artisti Lavorano benissimo con me Però adesso Devono sorbitre Ho quattro minuti di audio Tutte le volte Che gli descrivo una situazione Una roba che voglio fare Che voglio essere impeccabile Ma anche il mondo delle carte Che poi hai iniziato a fare Che fai proprio tu Allora io penso Che non ci sia Una cosa più bella nel mondo Non c'è Però è bellissimo Io veramente Ho finito ora Di fare flashback Che è il mio secondo Ultimo set Di carte collezionabili Dedicato a me Poi basta Perché non ho più niente A raccontare E ti manca È come una droga Cioè te finisci le carte E fai adesso Che cazzo fa Cioè tutto ti sembra Veramente molto più inutile Perché è bello E questo arriva fortissimo Perché vedo insomma La reazione della gente Che ti segue Delle persone Appena pubblichi una carta nuova Una carta che magari Riguarda qualcun altro E qui è ancora meglio Entusiasmo incredibile Questo set qua È meglio Non solo a livello artistico A livello contenutistico Rispetto al primo Però lascerò valutare il pubblico Perché ormai mancano pochi giorni Alle spedizioni Veramente due o tre Ma stavolta è meglio Perché la gente Aprirà dei box Di cui non sa tutto Io ho fatto vedere le robe Ho strizzato parecchi occhi Però finché non metti Tutte le carte nell'album Non componi la storia Che ho creato Perché stavolta c'è una storia Quindi ogni carta Ha un senso Nel disegno complessivo Ogni carta è dedicata A quel momento O a quel personaggio Ma fa parte di un mosaico Ben preciso Composto da 154 carte Come un fumetto Che te legge Attraverso le carte Ma ogni vignetta Funziona a sé Quindi quando andranno A vedere Faranno Porca Ma serio C'era davvero sotto tutto questo E io non vedo l'ora Perché è È la prima volta Che vedrò la gente Spacchettare E io spacchetterò Anche su Twitch E loro scopriranno Quella cosa Avranno il senso wonder Proprio quando aprono i pacchetti Prima non era così Perché era tipo collezione Quando crei le tue carte Vivono nell'ecosistema Che hai creato tu Giusto? Cioè ogni gruppo di carte Ha il suo ecosistema Di riferimento Per quello io voglio uscire Da Twitch Con le carte Ok Cioè? Io vorrei fare un set di carte Che non c'entra niente Con quello che faccio sul web E perché? Perché sì No perché è bello Perché è bello farlo Perché vuoi provare a staccarti Ed è la prova del nove Cioè se funzionano delle mie carte Ok C'è il mio nome C'è la mia spinta La mia promozione I cazzi e mazzi Però se io riesco A farlo funzionare A dargli una vita sua Che possa camminare con le sue gambe E soprattutto vorrei provare a trovare un tema Che possa diventare internazionale Ok Perché se va in America Se vendi un Totti Box in America Lì è la prova del nove Ti conosce nessuno No no È l'unico modo per farlo crescere Poi espandere davvero In qualche modo Di quello che Se in questo mondo Quando ti guardi intorno Cos'è che ti fa? C'è qualcosa che ti fa un po' arrabbiare? Di come viene magari considerato ancora oggi? No me ne frega più Un tempo mi arrabbiavo Anche un anno fa C'avevo tante paranoie Tanta rabbia repressa Mi incazzavano molto più per maloso Ora non me ne frega più un cazzo Cioè sono arrivato a un punto Dove non me ne frega più niente Raramente mi colpisce qualcosa O mi fa Mi scaturisce la tentazione di rispondere a un commento Solo se leggo proprio una bagianata Proprio sputtanante Falsissima Allora rispondo Se no Se no no Anche perché ho capito che non puoi vincere Per esempio l'altro giorno Ho letto dei commenti che mi hanno colpito Perché era la conclusione della mia run su Pokémon Sul nuovo Pokémon Che è un gioco venuto fuori molto brutto E c'erano dei miei amici Che la notte Mi accompagnavano Perché veramente non ce la facevo più Era un gioco talmente scarno Che avevo bisogno di compagnia Mi facciano compagnia E la gente che non mi segue su Twitch Ha visto la roba su YouTube ritagliato E ha commentato Ma chissà se ti rompi i coglioni E io banalmente ho detto Ragazzi se non vi piacciono Non seguite questa tipologia di live E la gente Che risposta da trentenne Ma cosa vuol dire Che risposta da trentenne Allora non puoi vincere capito Cioè più che dirti Ragazzi non mi seguite Certo Che devi fare Allora basta Cioè a volte ci provi Ma capisci che tanto Basta No ma poi comunque Poi c'è dall'altra parte Tante cose belle Ma tu riesci a individuare Il momento storico Della tua vita In cui sei stato folgorato Da questo mondo Cioè Folgorato nel senso Che ne so Da un manga No no Tu come persona Tu come Dario Non so Sei entrato in una fumetteria Da piccolo Hai visto un manga E lì è partito tutto Hai visto un cartone No no Io mi ricordo Dove è partito tutto Dove è partito È partito tutto Quando avevo Secondo me Cinque o sei anni Una roba del genere E E trovai per la prima volta In edicola I monster in my pocket Sono dei pupazzetti Collezionabili di gomma Monocromatici Andavano tantissimo C'erano gli exogeni Ti ricordi Sì sì certo E uscì anche questo set Che è appunto I monster in my pocket Direttamente dall'America La matchbox Li stampava Qua in Italia Venivano distribuiti Da Credo dai giochi preziosi E Io Scoprì In combo I pupazzetti Collezionabili E le carte Perché dentro Siamo Certo E quindi Lì fui Fulgorato Dai mostri Chiaro Che entrarono Nella mia vita E non sono mai Più usciti Le carte Collezionabili E pupazzetti Di gomma E soprattutto Entrò nella mia vita Il collezionismo Era un problema Quello è stato un problema Perché È quasi una droga Io mi sono reso conto Poi Creando anche questo posto Che ho messo dentro Tutte le cose E prima in realtà Parlavavo Prima di iniziare Proprio A questa cosa Sono d'accordo Ci penso anche io Che più cresci Più cerchi Di andare a recuperare Delle cose Che ti fanno ritornare Almeno con la testa A un certo periodo E succede veramente A tutti Prima di chiudere Il tuo fumetto preferito 20th century boys Di Naoki Urasawa Ok Un manga Che È attualissimo Ancora Ed è un manga È il manga Che mi ha emozionato Di più Nella vita Proprio Per tanti motivi È lunghissimo Spiegartelo Non ce la metterei No però mi basta Ce l'ho anche tatuata L'unico tatuaggio Che ho addosso L'unico tatuaggio È questo È il simbolo Del villain Non solo Del villain Anche qua Ci vorrebbe mezz'ora Però è il simbolo Del manga Diciamo così E So che è un rapporto Conflittuale Con la Marvel No No In realtà no Sono cresciuto Con la Marvel Non vado a vedere Ormai Allora con il Marvel Cinematic Universe Non c'avo più Basta Però hai ripartito Ottimissimo Cioè hai ripartito felice No Ero partito come Io sono amante Della nuova Hollywood Quindi cinema americano E i garbaliani In 70 Quindi roba De padrino Taxi driver Cacciatore Cancelli del cielo Sì sì Apocalypse now C'è proprio le robe Quelle sporche Sporche Malsane Quindi Io valuto i film Per come sono i film Quindi se è un buon film Sono contento Se è un brutto film È un brutto film Cioè andare a seguire un film Perché così capisco meglio La macro trama No Ok No Che però è stata la sua forza Allo stesso tempo Sì certo Certo Però è la stessa forza Che c'hanno le serie tv adesso Certo Mi sono garbati Tantissimi film Marvel Io però la cosa che ho adorato di più Essendo cresciuto con i fumetti Della Marvel È stato proprio quello di vedere dei film Che si intrecciavano Cioè il fatto di vedere Che il risultato di un film Comportava una conseguenza In un altro film A me all'inizio aveva gasato tantissimo Lo sai che invece ce l'ho sempre avuta sui coglioni Anche nei fumetti Marvel Allora nei fumetti devo dire Quando mi costringevano Quando mi costringevano A comprare altri dieci fumetti Per capire com'è andata la storia Un po' sì È la stessa roba Sì è vero Il meccanismo Vatti a vedere Artman 2 subito Che un incasserebbe Niente Niente Però te lo devi vedere Perché se no Però sono stati in grado Quei film Di tirar fuori dei personaggi Che a me sui fumetti Affascinavano Zero Cioè lo stesso Iron Man Io non lo cagavo di striscio Ok E poi il film È riuscito in qualche modo A riabilitare Come Ant-Man Che cazzo Secondo me Guardiani della Galassia Sono l'esempio Uguale Bravissimo Perché Guardiani della Galassia Erano proprio personaggi Ormai dimenticati Eppure sono grandissimi film Ok Però ecco Sono rari i casi In cui sono stato colpiti Tipo The Winter Soldier Ma perché se ci levi Capitano Anerian È uguale Cioè è bello È una bella trama The Winter Soldier È anche il mio preferito In assoluto E nessuno lo capisce Ma perché È figa la trama È quello con la trama Forse meglio Strutturata Guardiani della Galassia Il processo Per arrivare a Endgame Però se ci pensi È incredibile Sì lo so Però Endgame Io la trovo una roba Cioè ci sono delle forzature Che Veramente in un altro film Saremmo tutti lì Corditi in una stata A robare i coglioni Invece Siccome Endgame Come l'ultimo Spider-Man Eh no Io Spider-Man con Holland Non c'ha Allora parliamo Brevissimamente No no Anche io sono d'accordo Allora mi è piaciuto Perché mi è piaciuto Accetto il fatto Che deve Perché è il primo Il problema per me Il primo Troppo Iron Man centrico Ah il primo Scusami Il primo dei Tom Anche se non c'è Sì sì C'è C'è sempre la presenza Il maestro Il sensei Non ce la fa Cioè Spider-Man Ma perché nei fumetti Non è così No perché La forza di Spider-Man Secondo me A parte New York Certo Cioè Noi vediamo un po' Nel primo film Con Tom Holland La New York Pochissimo però Però la forza è che Spider-Man è New York E viceversa Quindi deve essere Tutto un film Concentrato su quello Il primo funziona Perché te hai Questa New York Sbagliata Ma giustissima E soprattutto Lui è da solo Lui è un lupo solitario Perché è incompreso Nessuno lo capisce Che c'è i cazzi La zia rincoglionita Cioè È proprio Spider-Man Cioè se vuoi fare un film di Spider-Man Devi farlo come l'ha fatto Remy Sì anche io Cioè il primo in assoluto Resta comunque Io ad esempio C'ho Spider-Man Tatuato Quindi sono molto legato A questa cosa Non ho mai Cioè io ad esempio Non riesco a uscire Dalla cosa che Zia May Non può essere così Cioè Buona No Non può essere buona Sì è vero E soprattutto In Civil War Nel fumetto Spider-Man ha un ruolo Importantissimo Al pari degli altri Però non potevi fare Back in black Capito Quello era incredibile No back in black È una roba Però c'è una roba Nel mondo dei fumetti Invece Che ti ha fatto incazzare Ti faccio un esempio Io Scusami Sapevo di spiegare 300 Però ad esempio In Spider-Man Io sono arrivato A un certo punto Dopo Civil War Dopo un po' Che hanno fatto Una scelta editoriale Forse era No non mi di Superior Spider-Man No 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 Prima 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 di Superior Mi sono fermato prima Ah Ti dici il patto come fisto Il patto come fisto No quella roba lì È insostenibile Io ringrazio YouTube Perché grazie a un video Forse di Matioschi Che parlava di questa roba Io ho capito Di non essere da solo E di non essere stato L'unico Io da lì in poi Ho detto Sai cos'è? Basta Basta Perché mi hai fatto credere Che tutto È una bella rete Mi rendo conto Che adesso stiamo entrando Forse troppo Nel dettaglio Prima ti preoccupate A spiegare questo E quell'altro Poi adesso Chi è arrivato alla fine È chi vuole sentire la ciccia Però mi rendo conto Che a volte può succedere Che editorialmente Arriva una roba Che non ti piace Quindi addirittura Smetti di seguire Un fumetto Perché c'è questa Continua ricerca Del nuovo lettore Per cui Allora devi ripartire Sempre da capo Non puoi fare troppo Le cose complicate Ti è successo anche Su altri titoli? Beh Sì Anche in un titolo giapponese C'è stata una retcon Recente Notevole One Piece Ok C'è stato un retcon Che in realtà Io ho apprezzato tantissimo Perché il potere È fighissimo Emozionante Toccante Però poi se ti soffermi Un attimo a pensare Fai Eh beh insomma Però C'è qualcosa C'è qualcosa che non mi torna Però va bene Ce lo accogliamo E in Spider-Man Mille Ce ne sono mille Però sono affezionato Al personaggio E poi a tante saghe Che invece mi hanno Mi fanno dimenticare Le saghe brutte E in serie tv anche Segui con Poca roba Poca Quelle che veramente Cioè Per convincermi Con una serie tv Devi metterci tutto Te stesso Tipo l'ultima Che mi ha colpito Da stracciarmi le vesti È stata Better Cold Soul Ah ok E basta Io non ho ancora avuto Il coraggio di iniziare Perché sono orfano Di Breaking Bad No 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 È bellissimo Però adesso inizio a leggere Tanti che iniziano a dire È meglio di Breaking Bad Non lo so Secondo me sono complementari Però è proprio Cioè sicuramente A livello di Breaking Bad Sicuramente Sì Beh oh Grazie di questa checcherata Grazie a te Sono molto contento Tu hai già in mente Come sarà Dario Moccia Tra cinque anni A casa Si sei sempre nel tuo studio No 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 A casa proprio basta In pensione In pensione No non ci credo Invece sì Ma no ma c'è una così tanta passione Voglia di No ma non ti dico che smetto di lavorare Però smetto di essere A contatto con il pubblico Cioè così esposto almeno Perché ti vuoi Perché pensi che Perché il mio sogno è Avere una casa con mia moglie E basta Cioè questo è Tranquillo È un'altra casa Già ad esempio hai fatto la scelta Di restare dove sei tu In Toscana In Toscana In provincia di Pisa Mi dicevi Quindi sei in una zona comunque tranquilla Quando vuoi Ti sposti a Milano A Roma O in altre città Quindi già adesso ti sei creata un po' la tua Sì ma perché io sono affezionato Ti sembrerà strano Ma io da quando sono ragazzino E sono affezionato al Natale Beh Stare con i parenti La famiglia La famiglia Miei A cui tengo molto Ho un buon rapporto Bene o male con tutti E poi sono affezionato Proprio all'idea Di la casa Mia moglie Il gatto Cioè io sono molto Molto affezionato A quel contesto lì Sono dei valori In cui credite Credo sia una cosa Bella comunque Grazie davvero Ce l'abbiamo fatta E abbiamo anche Ha superato l'ora abbondantemente Ah era un'ora e basta Ma sì Non lo so proprio nemmeno Di solito dipende O è meno Più in base a quello che È la libertà Di poter fare queste cose Come vogliamo Grazie mille Grazie davvero Dario Moccio Passato dal basement Ciao bello Grazie a tutti